Un altro titolo shock sulla Sicilia web, una voce mi dice che devo uccidervi e la frase che una donna, madre di una bambina in tenera età, si è sentita pronunciare nel dicembre dello scorso anno dal marito di 43 anni. La donna si è rivolta ai carabinieri di Masca Lucia dopo anni di vessazioni, umiliazioni e costrizioni subite da parte del marito, ora arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Ai carabinieri la donna ha detto di non avere mai denunciato le violenze per proteggere la figlioletta che in molti casi aveva dovuto assistere ai maltrattamenti, ma di avere trovato la forza di farlo perché terrorizzata per quella frase pronunciata dal marito. Il PM ha chiesto al GIP il provvedimento restrittivo eseguito dai carabinieri, l'uomo è stato adesso posto ai domiciliari in un luogo diverso dalla casa che divideva con moglie e figlia.